Ehi ma non parlare di nessuno qua l'azienda, vieni puto, vieni puto, se non parliamo vieni puto. Dite qualche cosa, parliamo un po' di nuovo po'. Grazie. 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 Qua tre. Vedi, quattro? Quattro? Vedi, quattro? Vedi, quattro? Vedi, quattro, quattro? Vedi, quattro? Sì, quattro. Mi ha fatto tanto piacere che avete mangiato il tuo padre. Ma, però, lo spegni la. Un, ci, quattro. Allora... Le vedi, schifizzi, di quattro. No, no, non mi metti così. Posso studare? Scusa, tu, ce la fai? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Grazie, grazie, grazie. È che per ieri che ci erano buoni le cose che vedo. Grazie, grazie, grazie. Un complimento, un molto contento per la stigare. Io sono molto contento. ah ma roma un passaggio un passaggio si si le ubi biker sponsor tutto questo la spigio lasciamo venire un soldo un cento paolo due tutti hanno parlato Vittorio che ci ha portato qua a vincere una pancia. Sono qua che ci hanno portato le macchie, vuole la facciamo una strada. No, se ci stanno portando, ci sono fatti più oltre. Senti che saldini e bussi magge. Busse tutto vaterusso, bussare l'acqua, bussare tutta l'acqua. Quante cose, perché non se le c'è una calavera? Ha scritto parole, qua tu li sienti, la voce mi dà. Sono molto vaterusso. Eh, non è bello, non è bello, non è bello. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti